Gratuita, facile da scaricare e costantemente aggiornata. È The Pop-Up, la rinnovata applicazione per smartphone e tablet compatibile con Android e iOS Apple che permette di seguire da vicino in ogni momento le attività del Papa e della Santa Sede. Raccoglie infatti le notizie pubblicate sul sito news.va che a sua volta aggrega quelle messe in rete da tutti i media vaticani il Centro Televisivo Vaticano, la Radio Vaticana, l'Osservatore Romano, l'Agenzia Fides, la Sala Stampa Vaticana e l'Ufficio Internet della Santa Sede. Nata nel gennaio 2013, grazie all'impegno del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali l'app era stata lanciata durante il Pontificato di Benedetto XVI raccogliendo subito un discreto successo circa 400.000 persone l'avevano scaricata. 8.000, quelle che hanno fatto lo stesso nel primo giorno dal lancio, il 4 luglio, in una veste nuova e senza troppo clamore. A realizzarla, tra gli altri, Tadeus Jones del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali. Noi abbiamo pensato ad un pubblico più grande possibile perché vogliamo diffondere il più possibile il messaggio del Papa, il messaggio evangelico in tutto il mondo e non escludere nessuno. Anche il nome The Pope-Up è un nome che gioca un po', un po', come si può dire, divertente come nome. L'abbiamo scelto per dare, per usare un termine, un modo di dire più, meno formale e quindi crea, genera un po' di interesse. Il Papa. E quindi l'idea è un pubblico più grande possibile, non solo nel mondo cattolico, ma anche un mondo curioso di sapere cosa fa il Papa, cosa ha da dire. Il nome stesso dà anche un'idea di identità, di che si tratta questa app, ovviamente del Papa, no? Quindi notizie sul Papa, sul Vaticano, anche ovviamente la Chiesa nel mondo. I contenuti sono disponibili in cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. Scaricando l'app si possono seguire in diretta gli eventi del Papa, controllare su Twitter i suoi 5T, accedere a foto, video e anche a test integrali di Francesco. C'è anche una particolarità. Si possono fare visite virtuali grazie alle telecamere installate nell'area di Piazza San Pietro, a Castel Gandolfo, presso il Palazzo del Governo Torato. Papa Francesco ha espresso il suo apprezzamento per le novità di questa app, che ha lo scopo e il merito di rendere la Chiesa sempre più presente nel continente digitale. Ero curioso e quindi stavo guardando con curiosità di capire, però capisce il grande senso di queste cose, che permette di raggiungere molti milioni di persone. Quindi apprezza molto quello che possono fare, è completamente d'accordo di diffondere il più possibile, usando tutti i mezzi possibili. E questo non vuol dire escludere i cosiddetti vecchi media, no. Non è una questione di o uno o l'altro, tutti e due. Tutto quello che funziona per raggiungere il più grande numero di persone. Quindi questo apprezza molto e apprezza tutti gli sforzi dei media vaticani e il lavoro insieme. E quindi devo dire, alla fine, è rimasto molto contento di quello che si sta cercando di fare, anche se è una sfida di capire un po' tutte queste nuove cose tecnologiche. Dobbiamo esserci, no, se vogliamo parlare con il mondo e anche dialogare con il mondo.